ben tornati amici di 2games oggi vediamo un video di Ark Survival Evolved spero che vi piaccia buona visione ah picchi perché stai prendendo l'altro gelato po? e quindi prendendo il triceratopo ovvio guarda che il metodo più veloce è il triceratopo il metodo più veloce è un uomo a mano prendi troppa fibra prendi più fibra che altro non prendi neanche la fibra e i più berri in cambio guarda che anche la fibra serve dopo tutto il presto eh perché devi farci quando fai il legno per fare le wall hai bisogno di fibra? no hai bisogno del touch non della fibra hai bisogno anche della fibra serve un sacco di fibra quanta fibra serve seggi? 462 e 66 pulsioni 30 wow andiamo a vedere quante ne abbiamo già in casa ne avremo 700 probabilmente no ne ho usate tutte praticamente per qualcosa? legno? ora che si consuma in fretta la fibra sai? cioè per fare tutto quel pezzo di legno la di quella base ce ne vuole? è normale? non ne sono convinto eh eh sì non sei convinto ma perché non ti fidi quello che ti dico io? mica sono uno sprovveduto mi legno voi non avete messo il fertilizzante? il? no io ce l'ho messo già ci hai messo la caca non ci hai messo il fertilizzante vabbè oh scusami che non abbiamo più il perserver bin per poter fare fertilizzante è una casa di fertilizzante ok io ho già fatto uno ok io ho già fatto uno non ci hai messo il fertilizzante si c'è il fertilizzante ok ok stavo dicendo che i redemption i redemption i redemption i redemption i redemption bello ohohoh c'è un dillo a caccia dove scappi vieni qua pт vieni qua ho preso il paroz cambi che introdu 좁a prima ma vengono e chi sei dato in giro il raptor? no perchè? lo cacciamo perchè c'è la...sì qualcuno ha usato i raptor e che ha usato i raptor bastardi ma in cosa intende ha usato i raptor? qualcuno ha usato i raptor ma non capisco cosa intendi ha utilizzato veramente il raptor ha utilizzato il raptor qualcuno nessuno ha utilizzato il raptor nemmeno io ma allora l'ha usato picky ma non penso che ne sarebbe utilizzato allora ragazzi ci sono le due stelle una su siria e una su starlord quando in realtà una stella io l'avevo lasciata ieri su charlie si vabbè l'ho spostato di due centimetri per passare ma non è che sono andato in giro quindi hai usato il raptor? e cosa cavolo vuol dire questo? passato comunque abbiamo altra fibra qua quanto ne hai? sto guardando solo in quella che abbiamo in casa sono arrivato a 400 passi di fibra eh metterla tutti in un posto così prendo soltanto il legno non lo dia che la metta a cazzo la roba non lo dia che la metta a cazzo la roba non lo dia che la metta a cazzo comunque chi è che mi ha inculato la pia pellica avevo? perchè di la verità non c'è bisogno di utilizzare tendenzialmente il para per andare a fare la... ma è più comodo no è più comodo perchè tu riempi il para di legna si si ma ma fai io mi sono in poco tempo sono riuscito a fare qualcosa come 20 pezzi di vuole semplicemente che man mano che già avevo i requisiti li costruivo e continuavo a prendere eh ma è quello che facciamo anche noi è quello che fa io no ma è quello che fa anche Segil è che Segil poi tutti i pezzi che costruisce li mette già nel para eh si va bene e comunque è solo un discorso che il parasauro quello li se non erro ha il weight di 400 400 quindi avendo un weight così alto vuol dire che tu puoi metterci più roba prima di tornare indietro si lo so puoi deforestare tutto quanto ho fatto un arco berry dentro già che questo giro le dovrò mettere in frigo si perchè non riesco a farle vabbè allora prendo questo c'è no aspetta le metto poi in frigo no Nipcio prendo ripropse e faccio mhm adesso andiamo a vedere dove iniziamo ad ammetterlo di giusto che serviva abbiamo qualche drop in zona domanda tanto che ci sono si no si e dove lo vedi dietro la base dove dietro non c'è nessun drop dietro in mezzo agli alberi alza la testa allora considera che questo deve essere messo lì quindi metto qua ah lì qua e qua lo mettiamo non vai a prenderlo te col para no ma facciamo la chi corre più veloce tra il raptor e il para ah giochi lo sai i gate li apri e li chiudi da sopra il dinosauro si 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 lo so 1 2 3 4 5 e 1 6 7 viola niente vacci pure eh? viola cos'hai il livello? 30 5 non lo so vado a vedere a come non lo sa perchè se è il 35 non posso prenderlo ah vado a prenderlo tranquillo ci vado a dire ma non è viola cazzo dici probabilmente è bianco sto andando comunque sono già praticamente di fianco vedo il 30 lasciamolo stare noo cazzo si è distrutto prima ah perchè ce lì già tupito però lui che ha portato uno stare non era viola era bianco hai detto te che volevi far la gas eh ma tu sei partito prima mella c'è di fiammi eh posso rivedermi dal proprio costruiamo a due spear io non ne faccio neanche più le spie sto scherzando delle cose più utili che ci siano ma io tu no neanche io li sto usando da un bel pezzo e cosa come cazzo combattete come combatto a pugni con i pugni che nabbi la verità è la cosa migliore la verità no perchè tu quando combatti contro i cosi utilizzando le spie gliele puoi lanciare addosso che fa un botto di danno con due lanci di spiar massimo a tre butto giù un dilo sono in cima a un rapto beh che c'entra questo quando combatto ritimamente vado a combattere per cui se devo andare a combattere quindi trovo roba grossa se voglio combattere combatto con il colpo prima in ogni caso lancio di spiar sono attaccato uno spino due stego due stego c'era anche un cardo morto ottimo cardo morto non ce ne siamo accolti che ci dava penso che l'abbiano ammazzato i due spino due spino hanno ammazzato un corno tauro si ci sono spino e tricerato non ci vuole niente da ammazzarlo guarda che il cardo morto non ci vuole niente da ammazzarlo beh si dipende cioè si a livello basso si ahia c'è uno spino che è incazzato con me non capisco perché stagli attento no oh oh uovo uovo beh signori abbiamo un uovo di carnotauro che non ci serve a niente è un uovo di carnotauro non ci serve a niente abbiamo l'uovo del carnotauro non serve a un cazzo perché tanto non lo puoi non lo puoi far crescere ma chi cazzo vuoi che lo trovi che te lo piglia bisogna di fare touch poi fibra che sta dentro dove l'hai messa la fibra? la fibra è nelle costruzioni dove deve essere ok non è cazzato con me se stego vabbè io lo porto verso casa ragazzi va bene mandala verso casa livello 9 allora la puoi buttare giù tranquillamente o sei basso amore livello troppo basso è decretata la sua morte grazie per la pioggia riempitevi le borracce così possiamo mangiare anche le steamberry tanto c'è l'acqua gratis è ancora sopra che maledetta sono morto sono mezzo morto secondo te perché ho preso il pare mi scontro maledizione picchi sei inaffidabile sei totalmente inaffidabile è totalmente inutile alto punto lo torniamo questo dilo cazzo puoi tamarlo alto punto tanto chi siamo entra dentro e mette su quello parad vieni l'ho messo dentro no dentro 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 l'altro recinto tanto sta seguendo a me se mi segue mi sa che non mi segue più mi sa che è annegato ma cazzo ha messo delle torce distrugge queste torce che prendi legna ma che fine ha fatto il campfire è stato distrutto te l'ho detto 25 milioni ma è stato massimo oh ma arriva sto cazzo di di dilo la musichetta continua a esserci ma non vedo fino è solo dall'alto ma no era attaccato lì cioè se tu non ti mettevi nell'acqua lo vedeva che adesso non lo vede in mezzo all'acqua poche scusa tutti i carnovivori che dicevi che eravamo attorno erano i dilo per la nostra colpione per la nostra reocidata di la di più nera non c'è che che sta arrivando un po' sulla sinistra chi se ne frega ma no stare sul para ma sono incorretto no a pic che sta uscendo col para ancora ma io io adesso prendo faccio faccio treb manager e gli tolgo il diritto di utilizzare il para giochi da legno che cazzo sei devi essere in mezzo all'acqua da qualche parte scusa che cazzo sei in mezzo all'acqua o ci è picchi di nuovo in fight non so in fight però è molto in fight il nemito è molto lontano e non so perché siamo in fight però ha una una l'acqua 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 deve essere vero no l'acqua Sì c'era sotto il nostro è maschio, vero? C'è un Feynman di Rolf Saulo di livello 42 Ma non vedo che si sa Andiamo a fare crop qua Mi sa che devono iniziare a scendere Per fare la pelle perchè qua sto facendo solo carne Non che serve anche la carne Narcotici Eh beh sì ma deve andare a male per farla diventare narcotici